Continuano le misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza Covid per il Comune di Lucera. Il sindaco Giuseppe Pitta ha emesso una nuova ordinanza che avrà validità fino a tutto il 25 aprile. Tutte le scuole e gli asili continueranno a restare chiusi. Si procederà con la didattica a distanza. I negozi, anche quelli di generi alimentari, potranno chiudere alle ore 20, a eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi. Le attività di ristorazione potranno effettuare l'asporto fino alle ore 20 ed è consentita la consegna a domicilio secondo la normativa vigente. Domenica 25 aprile è imposta la chiusura di tutte le attività commerciali, tranne le edicole. Bar, pizzerie, pasticcerie potranno effettuare solo la consegna a domicilio. Riapre il cimitero comunale, ma con ingresso contingentato. Riaperte anche la villa, il castello e le zone limitrofe. Queste aree però saranno interdette ai pedoni nella giornata di domenica 25 aprile. Non è consentito consumare bevande e cibo all'aperto. I distributori automatici di cibi e bevande continueranno a restare chiusi dalle 20 alle 5 del giorno successivo. Chiusi gli uffici comunali, tranne quelli che offrono i servizi essenziali.